Scorrendo i nomi citati sulla copertina di questo libro troviamo De Andrè, De Filippo, De De Ro, Garzia Lorca che centrano con le preghiere laiche. Centrano perché sono dei laici che pregano. Questo è un libro che raccoglie le preghiere partendo dalle preghiere dei filosofi illuministi che o erano dei deisti o erano agnostici o atei e però pregavano. Pregavano rivolgendosi a un'entità superiore o alla natura. Insieme ci sono le preghiere di cantautori, di umoristi, di poeti che confermano un'idea. L'idea è che tutti pregano perché la preghiera è chiedere qualcosa. La preghiera massima è la preghiera al Dio. E prega anche chi non crede in Dio o ha il dubbio. Per cui è una raccolta di preghiere che invitano a riflettere sulla forza della ragione. E cioè si può andare avanti anche e solo con la ragione. Come è nata l'idea di mettere insieme queste preghiere appunto di laici? L'idea è nata proprio approfondendo i testi dei filosofi illuministi. Per cui un testo come quello di Voltaire che si rivolge a un Dio, che lui è un deista. Però poi c'è un testo di Diderot che si rivolge al Dio se c'è. Amichevolmente dice Dio se ci sei e poi Dolbach che invece non crede in Dio e si rivolge alla natura. E poi quella che io ritengo quella principale, quella di Kant, che si rivolge all'uomo. Ecco, il motivo per cui è nata questa raccolta è proprio l'avere una sorta di breviario per, io le ho definite così, una sorta di breviario per pecorelle smarrite. E questa è sicuramente un'ennesima iniziativa vincente della Università delle Tre Età di Andria. Questa è un'iniziativa che noi abbiamo voluto organizzare proprio come omaggio al professor Palumbo, che sta con noi da diverso tempo e offre a piene mani il proprio sapere, la propria cultura ai nostri soci.